E sono contenti di portare il nonno a pesca per il weekend. E ora manca Emma, la grossa, il suo nome, che è un porcello, e stiamo via per tutto il weekend. Non c'è il menno che al ciappa sempre di pesca grossi nella mano. E poi dopo io brucia sul posto. E toccanei, toccanei, lascia queste belle pesce. E io dico, no, questo weekend no, e vuoi portare a casa.